Il festival dell'agroalità è l'unico festival del genere in Italia. La seconda cosa importante è che noi abbiamo evitato accuratamente il rischio dell'autoreferenzialità. Abbiamo deciso gli argomenti, gli appuntamenti, insieme alle aziende agricole del parco, ne abbiamo 373 convenzionate con il parco, più tante altre. E allora tratteremo gli argomenti a loro cali, tipo i finanziamenti per il piano di sviluppo rurale, il guaio della presenza dei cinghiali che creano parecchi disagi. Parleremo di turismo rurale, di sostenibilità, parleremo del marco del parco nazionale dell'Alta Murcia che attribuiremo alle aziende virtuose a partire da ora, perché per noi i prodotti del nostro territorio vanno esportati e non ne possiamo parlare soltanto all'interno della nostra regione. Quindi questi argomenti sono gli argomenti che approfondiremo in un happening che prevede anche, voglio dire, scampagnate nelle aziende più belle del parco. Grazie.